Federico Pellegrino, bici da strada e fondo, ci sono dei punti di contatto tra queste due realtà? Assolutamente, lo sentiremo fin dal Campolongo. Un bel fiatone mio, ma anche quello dei compagni d'avventura. In mezzo al silenzio delle Dolomiti sarà veramente bellissimo. Quali emozioni si provano a pedalare in questo straordinario contesto? La cosa che mi piace di più è il silenzio. Una giornata così, con il tempo che ci spinge verso una sorta di relax mentale che è molto utile anche per la mia preparazione. Cosa ama della bici e della valbadia? Quello che amo della bici sono le gambe piene di acido latico, però non me lo posso permettere tanto spesso. E quindi vengo qui per cercare di fare un bel allenamento, ma anche divertirmi in mezzo a queste veramente fantastiche montagne. Non sono le mie Alpi, Val d'Ostane, però comunque sia mi piacciono tanto. Diciamo emozioni allo stato puro e anche allo stato acido latico. Quello sì, ma oggi l'acido lo teniamo a bada.